Mario! 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 Ci siamo. Let's go. Oh mio... ok. Non so se sai chi sono, ma sto per governare il mondo. Wow! Yay! Ma c'è un problema. Un umano. Con i baffi, proprio come te. Credi che conosca ogni essere umano con i baffi vestito in modo identico a me e con un berretto con l'iniziale del suo nome sopra? Ma proprio no! Bowser sta arrivando. Insieme, noi riusciremo a fermare quel mostro. Come? Guardaci! Siamo adorabili! E che ci vuole? Non c'è problema! Sì! Andiamo, Mario! La nostra avventura comincia ora! Vattene, vattene, vattene! C'è un enorme universo là fuori. Ci sono tante galassie. E contano tutte su di noi. Mario! Nessuna pressione. Wahoo! Huhoo! Ssi! 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 Grazie per la visione!